Il destino di Messina Servizi Bene Comune era legato a doppio filo con quello di Messina Ambiente, così la dichiarazione di fallimento di quest'ultima, trascinato con se la nuova partecipata, a non lasciare speranza, era stato prima un parere del segretario del comune Rossana Carruba, poi confermato dalla Corte dei Conti, quindi inevitabile la messa in liquidazione di Messina Servizi Bene Comune e l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione del gestore privato. Durante l'ultimo incontro a Palazzo Zanca si è conclusa la concertazione sul piano industriale e sul piano finanziario della partecipata di Via Ghibellina. È stata trovata l'intesa sul piano finanziario, mentre per il piano industriale il tavolo è stato aggiornato al 7 gennaio. Aspetto importante, è stato però ribadito l'impegno salvaguardare gli attuali livelli occupazionali con l'attivazione di altri servizi indispensabili per il digoro e la vivibilità urbana. Il terremoto, che è quindi investito dalle fondamenta alla nuova società, non dovrebbe avere ripercussioni, almeno per i prossimi due anni. In questi 24 mesi la strada è stata tracciata, ci sono degli obiettivi da raggiungere, a cominciare dal 65% dei livelli di raccolta differenziata e l'integrazione del sistema di raccolta porta a porta in tutti i quartieri. Per farlo è stato previsto un piano che suddivide la città in tre macro aree. Ciascuna è poi suddivisa in altre 12 sottozone, che vedrà lavoro squadre autonome con propri mezzi e attrezzature, che raggiungeranno e si occuperanno di una popolazione di 20.000 abitanti ciascuna, 8.700 udense domestiche e 1.000 non domestiche. Si cercherà di responsabilizzare ogni squadra che vedrà a capo un leader con a disposizione 35 autisti e operatori e un parco mezzi proprio. Sarà così più semplice vedere chi ha lavorato e chi no, chi viene pulita la propria zona e chi invece no, attuando quella rivoluzione in questo sistema che si attende da decenni.